Allora, bentornati sul canale di questo blog, io sono il Gons e oggi vi voglio parlare di zombie Gli zombie, gli zombie, gli zombie, corrono o non corrono? Questo è il problema Vi voglio parlare di zombie perché, perché, aspettate che l'ho lasciato là, adesso l'ho da prendere È uscita un'edizione di Midnight Factory, dell'alba dei morti viventi, Down of the Dead, di Zack Snyder Questo è ufficialmente un remake del film di Romero Ed è un film che io ho visto tanti anni fa, ero già un fan di Romero, ero molto giovane Quando uscì, insomma, andavamo tutti al cinema a vederlo di corsa Eravamo molto entusiasti di questa uscita E sinceramente non ci facevamo grosse menate sul fatto che fosse un remake Che chissà che male poteva fare ai film precedenti, ai film di Romero Come si fa a fare male ai film di Romero? I film di Romero sono lì, ormai sono nella storia, non li può toccare nessuno I suoi zombie sono mitologici Quindi questo è un remake che cercheremo di capire che funzione ha Allora, dal mio punto di vista, di ragazzino, quando andai a vederlo Questo è un remake che andava un po' a celebrare il cinema di Romero Il cinema degli zombie, insomma, lo riportava in auge Ora siete tutti molto abituati al fatto che i zombie van di moda Ci sono zombie dappertutto Tra un po' trovate i zombie pure disegnati sul cartone di cereali Siete abituati a zombie ovunque, zombie nei cartoni animati E' pieno di cartoni animati con i zombie Gli zombie sono ormai una consuetudine The Walking Dead, Black Summer Fear the Walking Dead, Z Nation C'è di tutto e di più Giochi da tavolo con gli zombie Quando ero giovane io, quindi Tantissimi anni fa, ma tantissimi anni fa Non c'erano tutti questi zombie, ok? Tu Non esisteva la zombie mania Se tu amavi gli zombie Eri già uno strano, capito? E io già ero strano Più amavo gli zombie, i miei amici pure Tutti i miei amici amavano gli zombie Tutti noi amavamo gli zombie E vedere un film nuovo, un remake sui zombie Aveva un significato importante per noi Ora, arrivare tanti anni dopo Arrivare intendo proprio Arrivare su questa terra tanti anni dopo E rompere il cazzo Perché questo remake non è quello che ti aspettavi Non ha molto senso Perché oggi è facile scegliere tante alternative Romero valide Quello che Zack Snyder ha voluto fare con questo film E rendere il tema di Romero più action Più fruibile dalla massa Meno drammatico I film di Romero secondo me hanno una grande componente drammatica Neighbor E secondo me c'è anche riuscito Scritto da James Gunn Che è tanto idolatrate per quella ciofeca dei Guardiani della Galassia Scusate se lo dico Ma mi hanno detto che se creo del flame Faccio più views E allora ho deciso di prendermela con i Guardiani della Galassia Scritto da James Gunn Diretto da Zack Snyder È un remake che sicuramente non rimane nella storia come un capolavoro Ma è molto divertente È molto dinamico E porta una novità Che in realtà la novità non è perché abbiamo già visto degli infetti correre Che sono quelli di 28 giorni dopo Zack Snyder porta gli zombie a correre E qua parte tutta la polemica di gente che dice Gli zombie non corrono Zack Snyder ha snaturato Ha snaturato Ha snaturato Zack Snyder ha fatto il suo film Non ha snaturato niente Ha preso e ha fatto un remake Come fanno tutti quanti Tutti i registi quando prendono un film E lo rifanno Lo cambiano E fanno quel cazzo che vogliono E lui ha fatto bene a fare il cazzo che voleva Io ho trovato molto divertente il fatto che i zombie corressero L'inizio del film è veramente iperadrenalinico E ci sono tantissime scene stupende Per quegli anni comunque non era così scontato Trovare quel tipo di riprese Quel tipo di action Soprattutto in un film di zombie La scena per esempio in cui l'infermiera Protagonista del film Deve scappare E corre Sbatte e cade dentro la vasca Poi si butta fuori dalla finestra Poi salta su una macchina Fuori c'è l'apocalisse È una scena meravigliosa È stupenda Io l'ho adorata quella scena È veramente un delirio incredibile Fatto benissimo Segue con i personaggi che entrano nel centro commerciale E lì si riprendono fortemente tutte le storie Che già sono state raccontate da Romero Le dinamiche sono sempre le stesse Diciamo che la parte appunto di dialoghi La parte di caratterizzazione dei personaggi È molto meno intrigante rispetto a un film di Romero Chiaramente È la parte sicuramente più debole Ma la parte di action è gestita veramente alla grande Non dimentichiamoci che Snyder è il registro di 300 O di Watchmen Quindi questo tipo di cinema lo sa fare ampiamente bene Allora per diciamo andare a affrontare subito il tema Di sta cazzo di polemica degli zombie che corrono o non corrono Io vi voglio dire una cosa E non dovete prenderla come la risposta a un vostro commento che avete fatto personale Perché quando io rispondo con un video Rispondo a più commenti Se una sola persona mi scrive una cosa io rispondo a quel commento Ma siccome ne ho sentite di cotte e di crude Ora dico la mia nel video Quando sostenete che gli zombie non corrono State trasportando qualcosa di fantasioso Quindi la possibilità che delle persone morte camminino State cercando di dargli delle regole E di bloccarla dentro degli schemi che non esistono Perché gli zombie È vero che gli zombie non corrono Come è vero che gli zombie non camminano E come è vero che gli zombie non si alzano in piedi E come è vero che non fanno tutta un'altra serie di cose Come è vero che gli zombie non prendono le cuffie del Walkman E ascoltano la musica o sparano Come succede nei film di Romero con Boob Quindi siamo all'interno del tema della fantasia Questo è un genere, l'horror Che rientra pienamente nel mondo del fantasy Dell'immaginazione, del cinema di genere Dove tutto è permesso, ricordiamoci Quindi gli zombie se camminano possono anche correre Non c'è nessuna regola scientifica Nel genere non ci sono regole scientifiche Il genere è il genere E il cinema di genere non ha regole Quindi non è vero che non corrono Detto ciò, anche se non corressero Perché il fatto qua è questo Che se Romero ha deciso di fare degli zombie in un certo modo È vero anche che Romero stesso Ha deciso di evolverli nell'arco di tutta la sua carriera cinematografica Quindi allo stesso modo anche altri registi Possono prendere un soggetto, trasformarlo e cambiarlo E far evolvere la figura dello zombie Come in altri casi è successo per i vampiri E per altre forme, diciamo, creature del fantasy Confutato che, appunto, i zombie non esistono E quindi non può esistere una regola scientifica che impedisce loro di correre Mettiamo anche che non possano correre Perché qualcuno, chissà, ha deciso che non devono correre Nessuno vi dice che questi Nessuno ha scritto da nessuna parte, credo Che questi sono morti L'infettato ha una specie di febbre Inizia a perdere energia vitale Insomma, inizia a abbandonare la vita Inizia a uscire da lui Muore E dopo pochi secondi 30 secondi circa Si risveglia E ha una forza ben superiore Rispetto a quella che aveva da moribondo Quindi questo cosa ci può far pensare? Volendo, semplicemente La persona si è risvegliata Può aver ripreso a battere il cuore Ma sotto forma di infetto, per esempio O possono essere successe tantissime altre cose Ci sono casi di animali che continuano a muoversi Anche in modo molto frenetico Anche dopo che gli è stata staccata la testa O altre parti del corpo Quindi diciamo che Stiamo cercando di conferire al film di Romero Quello che Romero non voleva fare Cioè stabilire delle regole Io dubito che il maestro Romero Volesse dire No ragazzi, da ora in poi si fa così come dico io Ok? Anzi Poi ognuno è libero di pensare ciò che vuole Secondo me questo è un film dignitosissimo Anzi molto 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 divertente Secondo me Poi dal punto di vista della scrittura Dei dialoghi dei personaggi Sono diciamo un pochino superficiali Sicuramente meno intriganti Di quelli che possono essere i personaggi di Romero Che sono più cupi Sono più drammatici Però strizza l'occhio anche alle tematiche romeriane Insomma cerca di farne un tributo Ma quello che fondamentalmente vuole fare È un film action con gli zombie E secondo me ci è riuscito alla grandissima L'edizione Miden Factory Che ora vi faccio vedere Adesso qua ho parlato per due ore Ci metterò un anno a montare il video Contiene i soliti librettino Cruato da notturno Quindi leggetelo per avere un paio di informazioni in più Anzi più di un paio Contiene la theatrical cut Che è la versione che è andata al cinema E interessantissima la director cut Cioè l'edizione come voleva mandarla al cinema Zack Snyder È molto interessante perché all'inizio del film C'è lui che parla prima del film Dove spiega che lui avrebbe voluto farlo così il film Ma per evitare che ricevesse delle censure eccessive Sono stati tagliati dei pezzi Questi pezzi che sono stati tagliati Lo rendono un film decisamente molto molto più di genere Molto più vicino a un certo tipo di horror Dove l'effetto speciale splatter non viene nascosto Dove la nudità non viene nascosta Infatti ci sono persone nude per strada Zombie nudi Ci sono tutte delle situazioni Dei piccoli particolari Che sono stati appunto tolti Che secondo me lo rendono molto più di genere come film E molto più apprezzabile rispetto alla versione del cinema Dura insomma sono stati proprio tagliati Non dei pezzi di trama Ma dei pezzi proprio di scene Quindi scene appunto Scene splatter E scene di nudità Ci sono anche dei contenuti speciali molto interessanti Ci sono i vari commenti di Zack Snyder Il film commentato Ressuscitano i vari effetti speciali Scene di tutti i generi Commento il film Però c'è dentro E ci tenevo a dirlo Questo extra veramente molto figo Il nastro perduto Gli ultimi terrificanti giorni di Andy rivelati Andy è il personaggio che per tutto il film È riuscito a salvarsi Siede nell'altro edificio Cioè lontano dal centro commerciale Con cui appunto alcuni personaggi comunicano tramite dei cartelli C'è la famosa scena dove giocano a sparare agli zombie Loro gli dicono Spara quello che assomiglia a Chuck Norris E loro lui spara Spara quello che assomiglia a Freddie Mercury Eccetera E lui va a sparare È una scena molto bella Questo extra è una specie di cortometraggio Fa un footage praticamente Dove Andy si riprende E documenta i giorni In cui è lì da solo Nell'altro edificio E ovviamente ha a che fare con loro E racconta dei pezzi di storia Che hanno a che fare con il film E poi addirittura c'è la scena finale In cui il cane viene mandato da lui col cibo E ci sono Non vi dico cosa succede per non spoilerare Ci sono proprio tutti quei pezzi lì Per chi è comunque un estimatore di questo film Quel contenuto extra è una vera chicca Veramente È una roba strepitosa Tra l'altro è fatto anche abbastanza bene L'attore che fa Andy è molto molto bravo È lo stesso attore È lo stesso attore del film Un'edizione fighissima Che vi consiglio Se avete già visto Di comprare e rivedere in lingua originale Così apprezzerete ancora di più La recitazione La presa diretta E tutta una serie di dettagli Che si perdono Anche le traduzioni Non sempre sono dei dialoghi E del doppiaggio Non sempre sono attinenti A quello che è La sceneggiatura vera del film Questo è tutto Spero di non essere stato frainteso Nel senso che avete tutto il diritto Di non apprezzare Gli zombie che corrono Anche se io ritengo che Siano davvero molto inquietanti Perché creano molta più ansia Mentre invece Quelli di Romero creano ansia Ma in modo differente Non inferiore In modo differente È un'ansia C'è quasi una sorta di metafora Nello zombie lento Perché rappresenta Secondo me Rappresenta un po' anche Il concetto proprio di morte La morte È comunque qualcosa Che arriva a un certo punto Tu devi comunque arrivarci Quindi che tu viva tanto poco È un percorso Dove quello è Il traguardo inesorabile Quello è il traguardo inesorabile E anche se ci arrivi lentamente Prima o poi Ci arrivi E secondo me Gli zombie di Romero In qualche maniera Sono inesorabili Come questo concetto Sono una specie di allegoria Della morte Piano piano arrivano E sono cazzi due Però Per me Gli zombie possono anche volare Nel prossimo film Me ne frega un cazzo Perché dipende sempre Quali sono gli intenti del regista Se l'intento È fare Un film action Con i zombie Divertente Godibile Con scene anche Che ti fanno dire Wow Per me ci sta tutto Tra l'altro Aggiungo che La parte finale del film Quando loro costruiscono Scusate Questo è un leggermente spoiler Anzi Questo è spoiler Se non l'avete visto Saltate Quando costruiscono i camion Con tutte le protezioni E passano in mezzo All'orda dei zombie È stupendo È divertentissimo Poi diventa super action È veramente Stradivertente Il combattimento con gli zombie La motosega La tipa che viene tagliata A metà Cioè È veramente una bomba E poi anche Il finale A me è piaciuto A me è piaciuto Il fatto che Che sia così Orrorifico Insomma Arrivano sull'isola E pensano di avercela fatta Invece l'isola è piena di zombie È fantastico Fantastico Comunque Scusate lo spoiler Spero che chi è arrivato Fino a qua Non abbia Cioè Abbia già visto il film Vi consiglio Di comprarlo Se siete Se siete Zombofili Zombie Dipendenti Zombie fan Fan di Quello che volete Vi consiglio assolutamente Di averla Perché non potete Apprezzare altri film Di zombie O The Walking Dead E non apprezzare questo Dai Questo è un bel film Poi Che non sia un capolavoro Siamo d'accordo tutti A proposito di zombie Saluto il mio carissimo amico Paolo di Fincogli Zombie Che è una fantastica community Che parla solo di Fincogli Zombie Hanno il canale YouTube Il canale Twitch La pagina Facebook E andateli a seguire Perché spaccano Anzi spacca Paolo spacca Quindi Un caro saluto a Paolo E Ci vediamo Ah no Sì Che cazzo dico Iscrivetevi al canale Mettete like Seguite la pagina Facebook Seguite la pagina Instagram E lasciate un commento qua sotto Per Non per dirmi Che gli zombie non corrono Perché Sennò veramente Cioè Non venite a rompermi i coglioni Su sta cosa Che gli zombie non corrono Ok Alla prossima Ciao 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 Ciao